Si comincia dal numero uno con Mattia Perin, estremo difensore del Genoa nell'ultima stagione al Padova, sicuramente a Pescara. Classe 1992, ritenuto uno dei portieri più in gamba dell'ultima generazione, arriverà in bianco-azzurro in prestito, giocandosi poi i gradi da titolare con Anania. Quest'anno, nonostante i sei gol subiti a domicilio col Padova dal Pescara, fece a tutti una grande impressione, già stimato in tempi non sospetti da Zeman. Perin ha vinto la concorrenza di Frieson. Dal Genoa potrebbe non essere l'unico arrivo, l'esterno ganese Masaudou Alassane, 20 anni e vicino alla ratifica dell'accordo con la formula della comproprietà. Altri giocatori addirittura d'arrivo, Tariq Elionussi, marocchino ma con passaporto norvegese, nell'ultima stagione al Fredistad con 18 gol all'attivo, attaccante brevilineo dalle buone referenze. E poi l'ala sinistra Troisi dal club turco del Kaserspor, 27 partite, 10 reti. E poi l'olandese Wasim Bui, centrocampista della primavera della Juventus. Tanti nomi, tante trattative, contatti quasi al termine ma per la partenza è ufficiale quella del capitano Marco Sansovini che ha chiuso con lo Spezia e che dunque saluta Pescara. Nonostante la sua volontà di remare ancora al fianco del Delfino, Sanso Gol ha firmato un biennale. A lui la riconoscenza di un club al quale ha dato tantissimo.